e allora buongiorno buongiorno a tutti e benvenuti buongiorno Flavio Agnissanti ciao Ale buongiorno a voi buongiorno a tutti allora seguite tutti Flavio Agnissanti nei link che vi lascio in descrizione su Passione Fiorentina e quest'oggi un format esiziale 30 domande a Flavio Agnissanti su Fiorentina, Inter, Milan, Juve, Champions, Serie A storia, Marcord, chi più ne ha più ne metta, anche Cuccina sei pronto Flavio iniziamo? assolutamente sì Fiorentina, il prossimo anno giocheremo in Europa e se sì quale secondo te? secondo me giochiamo in Europa e secondo me facciamo l'Europa League e mi spiego anche secondo me sicuramente, ma una mia idea, non è una mia notizia la Juve il prossimo anno non farà l'Europa quindi tu sei molto più vicino all'Europa di quando possa sembrare ad oggi hai anche grandissime possibilità di giocarti la finale sia di Coppa Italia e sia di Conference League e se dovesse andare bene in una delle due partite fa l'Europa League inoltre c'è il discorso che se vai in finale di Coppa Italia con la Juventus con la Juventus detta dalle competizioni europee ci potrebbe essere anche la possibilità che tu anche perdendo la finale vai in Europa League e io dico occhio al campionato perché potrebbe essere un mese interessante quindi secondo te sì e facciamo l'Europa League anche? sì seconda domanda, italiano resta anche il prossimo anno? italiano resta il prossimo anno perché italiano soprattutto nell'ultimo mese e mezzo secondo me ha corretto alcuni errori che ha fatto ma soprattutto ha recuperato dei giocatori parlo di Dodò, parlo di Mandragora, parlo di Cabral oggi la Fiorentina non c'entra avanti Trevisani ha detto che Cabral è solo al 30% io non so se al 30, al 40, al 50% non lo so però italiano secondo me adesso si sta iniziando a divertire Bregalo è una freccia che deve essere lanciata Sottiglia è una freccia che deve essere lanciata Cabral siamo solo all'inizio Mandragora siamo solo all'inizio Dodò siamo solo all'inizio con due acquisti secondo me l'italiano sa che può fare un bel percorso e su italiano poi ne parliamo dopo Tre giocatori della Fiorentina che ti stanno entusiasmando e tre che ti stanno deludendo o non piacendo Igor per me è un difensore a Firenze sta lasciando lo scorso anno che c'è stato un Igor Mania poi è stato un fuoco di paglia parlo di umore dei tifosi di entusiasmo dei tifosi quest'anno per me Igor è molto sottovalutato Anche a me sta piacendo più quest'anno che l'anno scorso concordo perché lo scorso anno sai è stato un periodo boom 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 quest'anno è più maturo è più maturo più giocatore cioè non quello che entra e fa bene quello che parte a responsabilità non perdere bravo mi piace Igor molto bene faccio anche il nome non posso non metterlo di Amarabat perché secondo me quando perderemo Amarabat ci renderemo conto di chi abbiamo perso lui tante partite guardate Fiorentina Lecce lì fa una partita devastante e in certi campi noi andiamo a San Siro la prossima partita io sapere che c'è Amarabat e ce l'ho in forma così come adesso sto un po' più tranquillo quindi Amarabat è il secondo e il terzo giocatore è Cabral perché forse dico forse abbiamo trovato il centro avanti non è una roba banale e i tre che ti stanno deludendo non entusiasmando il primo Jovic perché io ero a Moena quest'estate quando vedevo Jovic dicevo caspita questo con la palla fra i piedi fa quello che vuole ragazzi Jovic l'ho visto dal vivo a Moena lui metteva la palla dove voleva uno due tocchi era delizioso e dicevo adesso non si muove perché Moena non si muoveva dicevo caspita però adesso non si muove siamo a luglio quando si muoverà farà questo che fa da fermo lo farà in movimento questo è un giocatore fantastico invece oggi è ancora quel giocatore lì parlando con qualcuno che gli allenamenti li vede mi dice che non è che lui è proprio così anche in allenamento quando dicono forza Jovic lui ha quel passo lì ha quella movenza lì però alla Fiorentina hanno un'opinione di Jovic molto elevata cioè lo staff italiano pensa che Jovic sia fenomenale ma nel calcio ragazzi devi correre devi fare un certo tipo di gioco che Jovic oggi non fa quindi dico Jovic mi sta deludendo Biraghi perché lo scorso anno per me ha fatto una stagione da sette e mezzo quest'anno è un passo indietro rispetto alla scorsa stagione è un altro che mi sta deludendo ma mi dispiace forse non so se è colpa sua o meno Duncan mi aspettavo lo scorso anno che lui lo scorso anno Duncan finisce la stagione da titolare lui segna il gol con la Juve quello decisivo perché poi Nico segna il rigore ma la partita era finita ma la sblocca Duncan al di là del gol con la Juve Duncan lo scorso anno si stava prendendo un pezzo di Fiorentina quest'anno invece non ha mai convinto a piedi la cosa che più ti piace di mister italiano è quella che ti piace meno la cosa che mi piace di più l'italiano lavora l'italiano lavora sulla squadra è uno che non dorme di notte per trovare soluzioni è uno che lavora cerca di migliorare ogni giocatore cerca di l'italiano è un grandissimo lavoratore poi può piacere non può piacere ma uno che si sbatte che sta lì che vive per il calcio se l'italiano vai a cena e parli di calcio gli fai un favore perché lui ama parli di calcio di soluzioni eccetera quindi è un allenatore che lavora che cerca soluzioni e quest'anno lo ha dimostrato quello che non mi piace secondo me lui deve crescere sul discorso delle critiche sia sulle critiche e sia ma questo era un percorso che lui ha fatto l'italiano nella sua vita non nella sua carriera da allenatore nella sua vita non ha mai giocato ogni tre giorni quindi quest'anno per lui è stato nuovo il giocare ogni tre giorni gestire il gruppo gestire le energie gestire anche certi singoli quindi questo lo ha imparato e l'abbiamo visto ultimamente e secondo me deve sentir meno le critiche lui soffre tantissimo le critiche che gli arrivano da dietro la panchina le soffre da morire su questo deve fare un upgrade però è il terzo anno inseriato all'italiano in estate arriverà un centro avanti? secondo me sì perché io penso che Jovo ci andrà via Cabral allora vediamo come finiamo perché se questo trend continua io penso che Cabral sarà un punto fermo e verrà preso un altro centro avanti io fatico a pensare che Jovo ci possa restare ma vi dico proprio la mia idea non è una mia notizia è una mia convinzione oggi che stiamo a fine marzo poi mancano due mesi pienissimi grazie a Dio da quanti anni non avevamo una Fiorentina che ad aprile era viva su tre competizioni quindi la cosa bella che a marzo ed è già questa una notizia non stiamo pensando ad agosto a marzo stiamo pensando al primo di aprile quindi penso che Jovo secondo me non lo so che soluzione troveranno ma a ramadani non è l'ultimo cretino della compagnia penso che arriverà un centro avanti e che Jovo ci andrò più arriverà un portiere? credo di sì credo di sì lo sanno ci hanno provato con Gollino non gli è andata bene sanno che Terracciano è un ottimo secondo è un buon portiere parlavo con qualche giorno fa con con il nostro grande amico Pedullai dicevo ci sono gli allenati i portieri che ti portano punti ci sono i portieri che te li fanno perdere e i portieri invece da sé in pagella che non te li portano ma non te li fanno perdere ecco io penso che Terracciano non ha portato punti alla Fiorentina ma non li ha fatti nemmeno perdere che non è un dettaglio perché a volte facciamo passare Terracciano come uno scappato di casa non è uno scappato di casa tuoi tre nomi per centro avanti portiere attaccante scusa centro avanti portiere e regista io prendo Vicario e vi dico tanti dicono eh Vicario l'abbiamo perso non ci tocca più calma perché in Italia nessuno si può permettere di prendere Vicario a venti milioni nessuno oggi in Italia si può permettere di andare dall'Empoli e fare un'offerta a cash all'Empoli come l'Empoli vuole non so dall'estero se arrivano offerti rinunciabili non conosco il mercato estero non quindi faccio fatica a parlarne ma se dall'estero non dovesse venire nessuno in Italia a prendere Vicario io Vicario lo vado a prendere perché vuol dire avere il portiere per i prossimi dieci anni e il Vicario lo prendo sul discorso difensore io prenderei vediamo siamo rabbati no era era centravanti regista e portiere il difessore me la tengo per la pontatina bravo allora quindi centrocampista andrei a prendere onestamente andrei a prendere il centrocampista dell'Inter Aslani ok Aslani non sta giocando addirittura Inzaghi ha preferito in qualche partita mettere Gagliardini che è praticamente uno svincolato e non Aslani è un segnale che qualcosa è vero che l'Inter cambia l'allenatore perché l'Inter cambia l'allenatore però io l'andrei a prendere Aslani oggi devi andare a prendere Aslani Vicario Aslani e centravanti io andrei a prendere Retteghi ok poi su Retteghi ci ritorniamo ok Aslani Retteghi e Vicario dammi la pontatina per il difensore quindi che sta vicalando io in difesa andrei a prendere Viti andrei a prendere Viti interessante classe 2002 è andato in Francia così come a volte vanno in Francia quando non sei pronto non è pronto ma non il calciatore classe 2002 che va all'inizia devi essere pronto qui deve essere pronta la famiglia deve avere una situazione persa devi essere forte ho il 2002 è vent'anni devi andare in Francia non è facile per me ha sbagliato scelta però il 2002 lo piazza alla Fiorentina lo fai crescere con calma lo fa esplodere è un ottimo io lo prenderei Viti anche perché oggi non lo prendi a tanto e vi segnalo che il procuratore è in grandissimi rapporti con Tali Nico Gonzales sarà ceduto? per me resta per me resta a meno che non arrivi un'offerta mostre e se dovesse arrivare un'offerta mostre io penso che ci penseranno seriamente però dipende lì faccio la puntatina dove giocherà la Fiorentina se la Fiorentina fa l'Europa lì lui resta io voglio voglio andare su questo perché lui qui sta bene la fidanzata adesso sta qui la famiglia sta qui non lo so sei un'iconeiano o non sei iconeiano? sono un'iconeiano icone ragazzi non è un calciatore che oggi ha compinto a pieno ma a qualità cioè io voglio puntare più su icone che uno che ha delle qualità quindi io voglio sgrezzare voglio lucidare un diamante grezzo che va raffinato e non puntare su giocatori che tu sai che quelli sono e quelli rimarranno io preferisco andare a prendere un medico che oggi fa il portantino ma che ha le qualità per fare il medico e non uno che so che è un infermiere e resterà infermiere non so se ci siamo capiti certo 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 condivido tra Dodò e Di Lorenzo chi prendi? tutta la vita Dodò anche vai vai anche perché noi ne abbiamo parlato il lago a passione di Dodò l'abbiamo sempre difeso bravo al di là di questo ma Di Lorenzo cosa ha fatto contro l'Inghilterra è un disastro un disastro e quello ora io non sto dicendo che Di Lorenzo è ad oggi se tu mi chiedi Flavio mi fai l'undici top della nazionale della del campionato italiano ci va Di Lorenzo non ci va Dodò perché Di Lorenzo è ad oggi miglior terzino che il campionato sta facendo vedere e su questo non c'è dubbio però in una squadra in un contesto che funziona Di Lorenzo ha 29 anni ha fatto la questa è la prima stagione ad altissimo livello Dodò è un giocatore che ha fatto la Champions League ha convinto il Champions League quest'anno ha fatto un percorso veniva dalla guerra veniva quindi io Dodò è 98 io mi prendo Dodò abbiamo la miglior copia di Terzini della serie A questa è una bella domanda ma dobbiamo calcolare una roba noi giochiamo a 4 se giochiamo a 4 ti dico di sì perché nessuno però è anche vero che Danfries Gosens sono superiori a Dodò Biraghi però lo giocano a 5 ed è un altro però anche lì ti dico secondo me Gosens può essere superiore a Biraghi ma il Danfries che abbiamo visto in questi due anni non so se cioè Dodò per me può fare meglio di quello che Danfries ha fatto vedere all'Inter in questi due anni ma Danfries oggi peso specifico è un giocatore che anche al Mondiale ha dimostrato di essere un terzino che ha delle qualità all'Inter è vero che ha fatto degli errori ma all'Inter quando si accende la catena di destra la parella a Danfries con Lautaro che li prende sono bei difensori ecco io penso che Danfries con Italiano che è italiano è un po' interista è un po' interista no conosco il palco ecco perché è un palco di catena di destra quindi Danfries oggi con Gosens penso sia meglio di Dodo Miraghi però loro giocheranno a cinque è un altro sport sì però insomma abbiamo una buona una buona coppia specie se si ragiona in ottica a quattro miglior allenatore della Fiorentina che ricordi io dico Montella dico Montella perché la Fiorentina più bella io l'ho vista con Montella Viennio 2013 2015 poi l'ultimo anno non un po' meno ma abbiamo visto delle robe eccezionali ragazzi il primo anno di Montella guardavi la Fiorentina ed era uno spettacolo vedere giocare la Fiorentina ed è vero che qualcuno dice sì è facile farlo con Pizarro eccetera eccetera però Pizarro era svincolato dalla Roma Aquilani era svincolato dal Liverpool Borcavalero era retrocesso dal Villareale ma poi giocavi anche bene cioè non era non era una costaglia di grandi giocatori messi in campo e si arrangiavano da sole c'era un'idea di gioco ne dico un'altra noi eravamo senza centravanti il primo anno a un certo punto noi le partite più belle mi ricordo come se fosse io Lazio e Fiorentina lì giochiamo con Jovetic gli Aic gli Aic cioè il nostro ridente era gli Aic gli Aic gli Aic gli Aic squadrato punte non ce ne sono nessuno attacca la profondità nessuno attacca lo spazio nessuno fa spazio di testa eravamo meravigliosi e sei d'accordo con me che se prendiamo un lasso degli ultimi trent'anni dopo Montella io ci metto già italiano come allenatore migliore soprattutto a livello di proposta di gioco e di futuribilità come percorso sì Ale ma io non dimentico i primi sei mesi di Paolo Sosa a Firenze eravamo eravamo un'evoluzione della squadra montelliana cioè Montella era molto estetica molto e belli molto spesso non eravamo nemmeno pratici con Paolo Sosa i primi sei mesi fino a a gennaio poi vabbè si è rotto qualcosa a parte che abbiamo sfiorato di essere campioni d'inverno abbiamo perso in canta con la Lazio 1 a 3 segno Milinko Vissavic e poi il giorno d'ora il Napoli di Guain vinse a Frosinone ci fu quel gol di Guain a Frosinone bellissimo sì mi ricordo abbiamo sfiorato però la Fiorentina di Paolo Sosa era bella pratica Ilicic con Kalinic con Bernardeschi eravamo deliziosi io mi ricordo il 4-1 a San Siro con l'Inter pesce in mano ragazzi quel 4-2-3-1 giocava a memoria giocavano sempre gli stessi giocavano a due tocchi eccezionali eccezionali la tua un po' Pular Opinion sulla Fiorentina un po' Pular Opinion sulla Fiorentina dico che Quadrado è stato il miglior giocatore degli ultimi 10 anni di Fiorentina perché tutti parlano di Borcavalero tutti parlano di Pizarro tutti parlano di Salah a parte che Salah abbiamo avuto 6 mesi faccio fatica a contestarlo è stato è stato un bel dei 4 mesi meravigliosi però Quadrado ragazzi per quello che ci ha fatto vedere nessuno si ricorda di Quadrado ma io vi dico nella storia io non lo ricordo 30-40 anni sta lasciando gli anni 50-60 abbiamo avuto un'ala destra più forte di Quadrado Quadrado è eccezionale vi ricordo un'altra roba secondo l'ala di Montella Quadrado fece anche la punta ricordate che Montella diceva se lui mi salta l'uomo al centro dell'aria mi fa gol Quadrado era eccezionale Quadrado era eccezionale secondo me mi dispiace non ha avuto la carriera che avrebbe dovuto e voluto avere il tuo pensiero sui Della Valle i Della Valle allora un grande merito per Della Valle che è quello che poi contestiamo già con Misto Della Valle andavano da Alessandro Catto dicevano senti io ti do le chiavi della squadra ti do dei parametri economici fai quello che vuoi hanno fatto così con Pradema hanno fatto così con il primo Corvino quindi loro sono stati bravissimi ed erano dei grandi venditori che si sono saputi affidare io mi affido a te tieni fai tutti ti do dei parametri quello che però sui Della Valle poi erano troppo così perché poi in certi contesti c'era da dire caspita stiamo per fare il salto non è più il momento di guardare il centesimo il milione in più il milione in meno andiamo abbiamo avuto più occasioni penso all'ultimo anno di Prandelli dove noi a gennaio del 2010 siamo semifinale di Coppa Italia siamo ai quarti agli ottavi di Champions League e siamo secondi in classifica la Fiorentina dopo aver vinto a Siena non mi ricordo che se 4 a 1 5 a 1 5 a 0 doppietta di Gila doppietta di Mutu era seconda in classifica lì i Della Valle dovevano dire al diavolo il conto in più e in meno investiamo perché possiamo i Della Valle sul più bello hanno sempre fatto un passo indietro ecco commisso da questo punto di vista mi sembra diverso cioè rispetto a Della Valle non è uno che va da Alessandro Catto e dice tieni ti do i parametri stacci però nel momento che la Fiorentina sarà chiamata ad un salto di qualità io sono convinto che commisso lo farà cambieresti direttore sportivo? allora è troppo facile dire sì prendiamo giunto di sì prendiamo c'è una realtà oggi alla Fiorentina dobbiamo prenderne atto chiaccio o meno prendiamone atto oggi chi è il braccio operativo chi è il Galliani della Fiorentina è Gio Barone non esiste un direttore sportivo che viene e dice qui comando io faccio io sarebbe bello andare da Giuntoli perché Giuntoli non è così scontato che resta a Napoli oppure da un Sartori l'anno scorso e sarebbe bello dire andiamo a prendere il top alla Fiorentina c'è c'è Barone che Barone è commisso quindi non possiamo dire almeno andiamo via Barone sta lì poi quello sarebbe un discorso troppo ampio perché ci deve stare perché non ci deve stare è un dato di fatto dobbiamo prenderne atto con commisso c'è Barone è inutile dire prendiamo un direttore sportivo A B C D Z se poi il controllo delle situazioni il il cuore pulsante nella stanza dei bottoni c'è sempre Barone quindi io dico non lo cambiamo puntiamo su Pradè e anzi sbagliando si impara hanno sbagliato Pradè sente molto la piazza quindi lo sa e ogni giorno che passa con Pradè che sta a fianco a Barone la coppia secondo me si cementifica di più e si imparano sempre più cose a patto che continui a portarci una puntatina a sessione a patto va bene va bene una cosa una cosa che ti piace di Firenze e una che non ti piace la passione di Firenze sulla passione di Firenze ragazzi il Napoli vincere lo scudetto ha vinto lo scudetto fa 5.000 abbonati oggi tutti sul carro stadio pieno tutti a fare i buffoni a Napoli oggi troppo facile fare i buffoni oggi quando si ha più 20 a più 15 a più 18 ad agosto a Di Maro De Laurenti non è potuto andare a fare la presentazione della squadra perché lo stavano massacrando oggi facile fare i buffoni oggi a settembre 5.000 abbonati a Napoli 5.000 quindi Firenze non è così Firenze a Moena pieno di gente così abbonamenti 20.000 23.000 24.000 dovete vedere anche gli abbonamenti che ci sono a Roma cosa siamo la quinta piazza per abbonamenti guarda come classifica non lo so ci metti davanti naturalmente le milanesi ci metti davanti la Juve la Roma la Roma naturalmente secondo me siamo i quinti quinti sì dovremmo essere i quinti e quindi questa roba qua di Firenze è meravigliosa quello che di Firenze non mi piace è che quando punta qualcuno sei morto l'abbiamo fatto con Ilicic a un certo punto lo stavamo facendo negli ultimi anni anche con con Caléon Caléon sembrava che se giocava Caléon era un bidone era un problema Caléon quest'anno e questa è anche un'opinione anche particolare Caléon nella prima parte di stagione avrebbe fatto molto comodo a posto di Quame quest'anno quest'anno tu pensa ad avere un Caléon nei primi 4-5 mesi della stagione dove non avevamo esterni dove a livello tattico si faceva fatica dove avere un era uno anche che ti dava un po' di esperienza in una squadra che iniziava a giocare le tre competizioni sì 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 parlo di quello l'anno scorso Caléon era il problema se giocava Caléon era un problema e poi andiamo a vedere la Fiorentina lo scorso anno nella prima parte di stagione è vero che avevamo Vlauic ma avevamo anche Caléon giocava tutte le partite per me Caléon non ci siamo resi conto della sua importanza tre migliori allenatori della Serie A attuale allora Gasperini Gasperini è bravo non puoi dire nulla Gasperini Luciano Spalletti allenatore sottovalutato tanto che noi portiamo a considerare vincente chi consideriamo vincente chi vince no è vincente chi arriva all'obiettivo se Alessandro Catto ha il Venezia e Flavio Nissanti ha il Real Madrid e Flavio Nissanti vince la Liga e Alessandro Catto con il Venezia di oggi arriva ai playoff è più vigente Alessandro Catto di Flavio Nissanti quindi Spalletti perché Spalletti porta sempre all'obiettivo la squadra l'ha sempre fatto nella sua carriera quindi ti dico i migliori sono Spalletti Gasperini Gasperini e potrei dire Sarri ma dico Vincenzo Italiano ok ok più forte la Fiorentina o l'Udinese? allora più forte la Fiorentina naturalmente l'Udinese è una squadra che secondo me ha perso il treno perché negli anni in cui era molto forte parlo l'Udinese in squadra la gente come De Paul Molina secondo me in quegli anni hanno doveva fare la guida tecnica quest'anno che forse hanno una guida tecnica migliore degli ultimi anni hanno meno individualità anche se e sono contento che se ne parla di meno magari l'andiamo a prendere Samardec è un giocatore da prendere ieri fortissimo lo prenderesti anche la Fiorentina di Italiano subito e poi mi preoccuperei no ma in quello me ne frega niente intanto lo prendo poi mi preoccupo di altro più forte la Fiorentina o l'Atalanta? più forte la Fiorentina la Fiorentina è più forte dell'Atalanta perché giocare ogni tre giorni è un altro sport da giocare ogni sette perché la Fiorentina ha molto più margine di miglioramento perché la Fiorentina ha una rosa molto più profonda e perché la Fiorentina ha delle individualità che l'Atalanta non ha un esempio Amarabat loro non ce l'hanno noi sì poi è vero che loro hanno Coppiners è vero che loro hanno Oliun ma Oliun è un giovane quindi è un altro discorso però dei giocatori come Milenkovic loro hanno De Miral ma De Miral oggi è in panchina insomma noi abbiamo delle individualità anche sul lungo noi da oggi ce l'abbiamo loro no quindi abbiamo anche molti più margini di miglioramento rispetto a loro una tua pontativa estiva per la Fiorentina pontatina estiva sulla Fiorentina io Andrei da può anche essere una di quelle che hai già citato è i famosi Vicario Aslani Vitti Retteghi io andrei dalla Juventus se dovesse sfasciarsi tutto e andrei a prendere Milik andresti a prendere? Milik ah Milik ok ok tua opinione su Retteghi allora Retteghi nazionale sì va benissimo eh no ma gli oriundi eravamo tutti sul carro quando Camoranesi ha vinto il mondiale eravamo tutti sul carro quando Emerson Parmieri e Giorgini hanno vinto l'europeo eravamo tutti sul carro quando all'europeo del 2016 Eder faceva gol quindi o ci va bene sempre o non ci va bene mai oggi che Mancini sta facendo degli errori si usa la scusa Retteghi per criticare Mancini critichiamo Mancini perché non convoca Udoji perché non non convoca Zaccagni perché non convoca Orsolini perché non convoca giocatori che noi pensiamo possano essere all'altezza perché schiera Toloya cioè critichiamolo per questo Mancini critichiamoli per certe dichiarazioni critichiamoli per il mondiale mancato critichiamoli per questo Retteghi oggi merita di stare in nazionale perché è più forte di Petagna perché è più forte di qualcuno ha parlato di Brumori che sta a Palermo qualcuno ha parlato di qualcuno che sta in serie B non scherziamo se Retteghi va in nazionale e toglie il posto a Scamacco e Immobile ne parliamo ma Retteghi non sta tolendo il posto a nessuno e ieri a me è pianto tanto tua finale di Champions di quest'anno è vincitrice Inter City vince il City ah ok ok all'Inter manderesti via Inzaghi e se sì chi prenderesti mando via Inzaghi perché si è rotto qualcosa con Marotta e quando si toglie si rompe qualcosa con Marotta bisogna andare via perché sennò è un io dico a te tu dici a me io dico a lui per arrivare a te se questa è la prima volta nella storia credo se la curva dell'Inter fa una fanzine con un comunicato in cui da fa delle critiche tecnico-tattiche a Inzaghi vuol dire che qualcosa è successo prendo De Zerbi rivoluziono l'Inter perché rivoluziono l'Inter ma inizio un progetto che mi porta da qui ai prossimi cinque anni a essere una delle squadre più forti d'Europa con De Zerbi se non hanno invece la lungimiranza oppure De Zerbi dice di non voler andare o l'Inter non ha i soldi per poter prendere vado a prendere Tiago Motto Tiago Motto ok al Milan manderesti via Pioli e se sì chi prenderesti? discorso di budget per me Pioli è un ballardini che ce l'ha fatta per me Pioli è un anatore normalissimo non ci trovo nullo di che in Pioli qual è il budget? io oggi andrei a prendere Luiz Enrique e faccio un certo tipo di calcio perché? chi è Luiz Enrique? Luiz Enrique è un allenatore che attraverso il calcio le idee fa crescere i giovani e penso sia un nome realistico ne stanno anche parlando non lo so voglio capire uno qual è il budget del Milan due cosa chiede Luiz Enrique che rivoluzione chiede però come idea tipologia oggi di politica societaria il Milan con idee con il calcio vuole lanciare i giovani Luiz Enrique è perfetto per questo ok Juventus manderesti via Allegri e se sì chi prenderesti? ti direi di sì ma lì il discorso è chi è il dirigente della Juve cosa vogliono fare quando budgettano e se invece devono fare la frittata con le uova che hanno mi tengo Allegri se è questa se è questa se invece loro hanno dei soldi da investire e vogliono rivoluzionare devono cambiare quindi è la Juventus che deve decidere il prossimo anno cosa sarà il prossimo anno la Juve vuole ripartire da zero o la Juve vuole proseguire arrancando a fare quello che fa se devi cambiare Allegri per arrancare ancora e non fare il nostro acquisto tieniti Allegri hai iniziato il percorso e lo fai finire se vuoi rivoluzionare io fossi la Juventus anche io farei carte false per prendere De Zerbi e e poi avrei detto tu ma tu vedi adesso certo la Roma e Murigno stanno deludendo? risultati no perché i risultati non sono deludenti la Roma è in lotta per il quarto posto la Roma è ai quarti di Europa League hanno fatto flop in Coppa Italia ma se visto che Murigno vuole essere giudicato dai risultati perché c'è un allenatore che dice non mi giudicare dal gioco non mi giudicare dall'identità giudicami dai risultati se non arrivi in Champions League è un fallimento la Lazio e Sarri stanno deludendo? no sono secondi classifica non possono deludere in Europa League questo è un salto è un è un quid che devi avere perché ma lì c'è un altro discorso Tare e Sarri non si rivolgono la parola nemmeno per dirsi buongiorno infatti a fine anno o resta Sarri o resta Tare questa roba qui secondo me sta penalizzando la squadra nella sua costruzione è impensabile che una squadra non abbia un bicemobile questa situazione hanno fatto un po' i bambini anche sul mercato e gli ha fatto non essere all'altezza in Europa League in Conference la Lazio parliamo di Lazio in Conference ma la Lazio il primo fallimento è che non passa il turno in Europa League se lo siamo dimenticati in Conference vengono eliminati la potevano vincere ma se arrivano in Champions League Lazio fa un grande risultato la tua un popolo europeo sulla Serie A ho un popolo europeo sulla Serie A e sulla Atalanta la gente pensa ancora che l'Atalanta sia l'Atalanta scoppiettante degli ultimi anni non è così l'Atalanta oggi è una squadra normalissima che non fa un calcio bello che invece soffre molto spesso l'avversario che molto spesso vince non demolendo l'avversario non meritando quindi dobbiamo un po' perché è un po' l'Italia per tutti l'Atalanta e i Casperini belli 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 non è più così e infatti occhio alla Atalanta che potrebbe crollare come ordine la pizza prendo una quattro stagioni o una capricciosa chiamo e mi arrivo sullo stadio chi ha sbagliato? ultima domanda lo stadio ha sbagliato Nardella il sindaco di Firenze perché all'inizio quando commisso arriva a Firenze e lui vuole investire sullo stadio lo devi prendere lo devi chiudere in una stanza e devi dire senti visto che tu sei un privato che vuole investire 300 milioni di euro che poi sono soldi che vanno a tutti perché se tu costruisci in uno stadio è lavoro e soldi per tutti sono soldi che tu spendi in Italia io mi chiudo in una stanza che lo faccio commisso e dico decidiamo insieme dove fare lo stadio e non il giochino Nolli, Nolli, Nolli poi una volta che è stato fatto questo grande gigantesco errore Nardella è stato bravo a sfruttare il miglior modo possibile il stadio Franca grazie mille Flavio seguite tutti Passione Fiorentina nei link in descrizione e a prestissimo ciao caro ciao Ale ciao ragazzi